come l'anima degli Umbri, pochi merletti. Sì, infatti io sono d'accordo. Ma infatti spesso c'è questo, faccio un po' una divagazione filosofica, ma spesso viene criticato l'Umbro per questa cosa, a chiusura. Io dal fatto che sono anche irpino, ho un grande legame con il popolo appenninico, che a primo acchito può sembrare un personaggio un po' che si fa i cazzi suoi. In realtà è un personaggio vero, nel senso che io difendo sempre l'Umbro, e sono tra i pochi, devo dire la verità, perché oltre all'apparenza c'è un animo che è incredibile, che viene fuori dopo un po', ed è un animo vero. Io faccio sempre il paragone tra l'Umbro e il Sagrantino, perché il Sagrantino ha questo tannino un po' aggressivo all'inizio, chiuso, e ha bisogno del suo tempo. Tu, l'Umbro, e parlo da Napoletana, hai bisogno del suo tempo per aprirsi, per dire, aspetta, ok, possiamo essere amici, ma l'amicizia nel senso di interazione intesa, in questo senso, anche il Sagrantino vuole il suo tempo per riuscire ad amalgamarsi con l'ambiente stesso. Esatto. Io infatti di solito do sempre del tempo all'autoctono, perché secondo me quello che ti fa vedere all'inizio non è mai quello reale. No, è sempre un po' fittizio, sempre un po' recitato, no? All'inizio, come me che mi vedi, ah, è napoletana, allora mi volevano, sai, un po' più sborona, un po' più così. Infatti tu c'erai un animo Umbro, secondo me, all'interno, perché tu non sei proprio napoletana nel metodo classico napoletano. No, però non toccatemi la pizza. No, la pizza non toccatemi, neanche la pastiera ti tocchiamo, non ti preoccupare. E vabbè? Vabbè? Ah, non vi azzicorra. Vabbè. Che so. Vabbè, ma lei viene dal Vomero, eh, gente... Gente ricca. Gente ricca. Sì, e adesso dici Vomero, qualcuno comincia a dire, ma non sei del Vomero? Sono in poplipidro, penso. Stiamo lì, ragazzi. Facciamo queste... Grande. Ma abbiamo altri spoiler su cosa stai lavorando in segreto? No, io c'ho... Ma c'è una domanda... Ma c'è una domanda cattiva. Cattiva, insomma, vuole un po' mettere pepe sul fuoco, no? Pepe, il sale. Sì, sei ubriaco in questo momento. Anche il pepe, vedi? Fanno... La tostatura del pepe è fondamentale. È un ottimo cacio e pepe, se non fai la tostatura del pepe, non sa fare un cazzo della cucina. Stasera faccio cacio e pepe, ho deciso. Io c'ho invece le tortillas. Vabbè, comunque, la mia domanda importante è... Anche la diretta sta per stopparsi, ma non ce ne frega. Noi continuiamo anche lì fuori. Ormai sembra rota libera. No, no, è che la mia domanda è che... Quando si parla di metodo classico, no? Sempre un po' nel nord Italia il fatto che ci siano dei terreni, dei climi un po' più freddi, queste escursioni termiche importanti. Perché oggi, e parlo dall'Umbra, parlo dalla Campania, si stanno sviluppando, una volontà di fare questo metodo classico. Da te che lo fai. Allora, sapete, il metodo classico, lo champagne, nasce perché il vino che producevano faceva cagare. E' questo il punto di tutto. Adesso cade tutto. Il mito dello champagne. Il mito dello champagne, però è vero. Facevano dei vini estremamente acidi, imbevibili. Casualmente... Stiamo parlando della Francia adesso. Stiamo parlando della Francia. Hanno aggiunto dello zucchero perché il vino era più potabile. Questo vino, casualmente, ha rifermentato in bottiglia. Dici, cavolo, è buono con le bollicine. E questo è un po' come è nato lo champagne. Quindi è un vino tecnologico da uva di merda. Noi facciamo un'altra cosa. Noi lo facciamo perché ci piace lo spumante, ma lo facciamo con l'uva buona. Infatti tocca aggiungerci tutto il liquor di spedizione. E' come è nata nella birra la IPA, l'India Pale Ale. Vi dovevano portare la fine in India, e quindi hanno scoperto che casualmente... Io questo lo paragonerei un pochino di più all'utilizzo della barrique, che è sempre una modalità di export. Quindi caratterizzare il vino dalla barrique, caratterizzare il vino dal lupolo, che garantisce comunque una conservazione. E secondo me anche sulla birra sarà una moda che passa. Come è passata sul vino quella della barrique. È già passata, è già passata. E ritorneranno le grandi, basse fermentazioni. Torna subito la Pils. Ma c'è già il fenomeno della Pils. Io sono un pro alta fermentazione, quindi per piacere non smetteremo... Io bassa fermentazione tutta la vita. Adesso c'è una spinta incredibile verso il Pils. Le grandissime birre da dove vengono? Dalla Germania, super bevibile. No! Attenzione! Bocciatissimo! In Inghilterra. No! Ità! La Repubblica Ceca! Ah, vabbè, Pils vuol dire quello. È proprio il paese. È proprio il paese. Sono felici gli amici tedeschi che hanno la Kölsch Pilsner, quella tedesca di Colonia. Che pronuncia. Eh, perché ho fatto l'Erasmus in Germania. È vero, l'ho letto ieri sera sul tuo Facebook. Ah, vai a fare lo stalking. Sì, tu che ti hai trovato la infotomia di dieci anni fa. O voyerismo. Voyerismo totale. Voyerismo totale. Bene. Dice, oh, direi che abbiamo fatto il record di Radio Design, abbiamo superato quasi un'ora di diretta. Eh, ma quando l'argomento di qualità e si parla bene, il tempo vola. Ok, allora ti aspettiamo il febbraio dell'anno prossimo. Vai, vai. Assolutamente. Poi ti porto un po' di Marisa Cuomo, che sento. Buonissimo. Che è sta Marisa Cuomo? È roba napoletana, immagino. È una pastire. Ah, pastire. È vino, sempre vino. Ah, che sono. È Salerno lì già. Sì, però, insomma, si ritrova. No, vedi, però, capito, c'è sempre... E se c'è sempre... Dopo, quando gli dicono, sono di Napoli, che è di Salerno, non è vero, sei salernitano. Che dopo, però, la roba buona è tutta napoletana. E io gli ho detto, che ti porto il vino campano, non napoletano. Ok, sta bene. Allora, allora. Sto diventando un salotto più che un programma radiofranico. Tanto qua nessuno è in linea. Cazzo è già tra di noi. Facciamo l'ultimo video, sempre... Attenzione, vai. Soltanto per la giornata che fai domani. Vai. Informativa, che può essere interessante. Va bene. Vai, chiudi, riapri. Ultimissima domanda per Giovanni. Domani hai un corso di formazione accreditato sul biologico. Come mai questa voglia di dedicarti all'insegnamento? Abbiamo un'associazione che si chiama Vignaioli Resistenti Umbri. Crediamo in un percorso comune di crescita e l'unico modo per crescere è approfondire. Quindi studiare e condividere i nostri studi. In particolare domani avremo il professor Altieri, che è uno dei massimi esperti di difesa delle produzioni biologiche. E approfondiremo quindi il tema della peronospora, dell'oidio, della botrite e quindi la lotta biologica. Quindi la lotta con metodi biologici per debellare queste malattie e avere delle uve di qualità. Fantastico. Quindi una persona che comunque si mette a disposizione anche della formazione dei giovani. Perché immagino che i partecipanti non siano soltanto del settore. Magari troverai qualche studente. In questo caso è un corso di viticoltura biologica avanzata. È per addetti al settore. Io ho fatto formazione per esempio per un corso della regione Umbria che si chiamava Esperto nell'esportazione del... Ma come ricordo? E vabbè, io ero docente e gli ho fatto un sacco contenti. Gli ho fatto due lezioni giù in cantina da me. Sull'export? No, io avevo il modulo di viticoltura ed enologia. È tutta la parte legata alla produzione e alla parte produttiva del vino. Va bene. Un produttore attivo... Si sta rompendo il dito lì. Un produttore attivo a 360 gradi, no? Sia con l'e-commerce che però non hai. No, no, no. Quindi con la comunicazione, con la formazione sulla terra e adesso anche in radio. Perché poi ci vediamo al prossimo appuntamento. A febbraio 2020 prendete appuntamento sull'agenda. Io direi di fare un appuntamento prima a sto punto, visto che ci prende bene. Oh, l'unica cosa che ne abbiamo fatto e la più importante. Il brindisi. Facciamo un brindisi insieme. Ho finito il vino. Ben saldino. Ah, è vero. C'è condivisione. Macca ricata bestia. Qui ci stiamo riassendo. Grazie. Salute, salute. Facciamo un brindisi finale. Grazie. Salute. Mi sento sempre quello che ne sa meno, però sono contento lo stesso. No, noi comunque perché parliamo nei microfoni? Perché ci sentiamo meglio. Perché siamo in diretta su Facebook. Ah, su Facebook siamo ancora in diretta. Certo, certo. Solo sul podcast. Anzi, sto registrando di nuovo sul podcast. È diventato un salotto enogastronomico. Della Perugia Mala. Dovevamo portare il cibo stasera. Ma ci mettiamo la porchetta, andava bene questo. Ma la prossima volta infatti fanno proprio cena. Cena con cinci. La cenci cena. A cena con cenci. Sta finendo malissimo. Non chiudiamo tutto. Interrompiamo. Potremmo degenerare. Basta, è stato un sogno. Salute, baci. Grazie Giovanni. Salute, salute. Grazie all'Istituto del Design. Andate a trovarlo in azienda. Ci saluta anche Ivan. Qui passa Ivan e ci fa diversi. Siamo veramente al top. Va bene, è stato bellissimo. Salute. Ciao, ciao.